I dati riguardanti l'emergenza coronavirus stanno fornendo indicazioni importanti alla regione, tanto che Zaia parla già di una fase 4. Abbiamo chiesto un piano per la fase 4, come la chiamo io, e quella che vi ho definito come lo schieramento dell'artiglieria pesante. Le complicazioni saranno infatti legate alle malattie di stagione. Pensate che sia una fase comunque complicata. Se voi immaginate per assurdo, se non avessimo il coronavirus a settembre, ottobre, quello che sarà, non avessimo il Covid-19, comunque avremmo il ritorno di quello che ormai è il male di stagione, poi ve ne parlerà il professor Vianello, che ha l'influenza, no? Le malattie da raffreddamento, eccetera. Voi mettetevi nella testa, per questo il piano dovrà essere scritto con molta attenzione, di tutti coloro che avranno due linee di febbre, avranno della tosse e io penso che 9 su 10 avranno il dubbio di avere il coronavirus. Sarà quindi fondamentale identificare fin dal principio le normali influenze e gli eventuali casi di coronavirus. Non è che possiamo pensare che tutti coloro che avranno l'influenza, avranno la tosse, il raffreddore, la febbre, debbano essere messi in quarantena, perché si rischerebbe veramente di creare guai. Quindi si sta scrivendo un piano ad hoc per questo.